Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese come sapete questa è la rubrica che ho su questo canale di Giappone e ogni settimana, due volte a settimana, parlerò di cultura giapponese spesso sono delle richieste che mi avete fatto voi stessi nei commenti proprio come il video di oggi oggi parleremo di polizia e vi chiederei gentilmente di lasciare un mi piace se volete aiutarmi a far crescere questo canale davvero, ognuno di voi può davvero contribuire a farlo crescere allora, ci sono molti stranieri che magari sono venuti in Giappone in vacanza o magari, non lo so, hanno visto delle immagini di poliziotti e i poliziotti in Giappone spesso vanno in giro con le biciclette hanno un sorriso in faccia, sono molto puliti, anche abbastanza magri spesso lungilini come la maggior parte dei giapponesi non particolarmente muscolosi, anche lì dipende sempre e niente, e spesso mi è capitato di leggere in internet o di sentire magari delle persone parlare di poliziotti in Giappone e dire, certo che i poliziotti in Giappone non fanno davvero paura a nessuno allora, vorrei davvero partire da questa frase che ho sentito perché dovete sapere che io personalmente ho sempre avuto un rapporto molto positivo con la polizia in Giappone mi hanno fermato qualche volta per chiedermi i documenti se vi interessa un video su è vero che la polizia in Giappone ferma di più gli stranieri tranquilli ve lo faccio però, devo dire che comunque quando ho perso il portafoglio ho fatto qualche wasuremono che vuol dire ho dimenticato qualcosa da qualche parte mi hanno aiutato a trovarlo abbiamo fatto le indagini mi hanno chiesto un sacco di domande sono stati sempre disponibilissimi anche nei primi tempi quando magari mi sono perso mi hanno aiutato a trovare la mia casa perché io sono un Hokonji quindi mi perdo ovunque in Giappone ma anche in Italia in realtà mi hanno aiutato a trovare la mia casa o anche se dovevo andare in un determinato posto mi hanno sempre aiutato infatti in Giappone ci sono un sacco di piccole stazioni di polizia che si chiamano Koban e se per caso volete andare in un posto e non sapete come andarci o vi siete persi o non capite bene la mappa vi consiglio davvero di andare in queste Koban perché veramente rivolgersi ai poliziotti in Giappone per direction quindi per direzioni è davvero una cosa normalissima anzi io vi suggerisco di chiedere ai poliziotti piuttosto di chiedere a qualche sconosciuto per strada che magari ha una giornata impegnata e non è giusto disturbarlo mentre i poliziotti sono lì apposta per quello premesso questo però vi devo dire che c'è un però perché se da una parte è vero che i poliziotti sono sempre gentili e sorridenti in Giappone c'è una cosa dietro a quel sorriso che fa veramente paura ossia il sistema di polizia giapponese infatti per il sistema di polizia giapponese se voi siete accusati di aver commesso un determinato crimine voi siete colpevoli finché non dimostrate di non esserlo e se ciò succede praticamente vi porteranno in commissariato per farvi delle domande e vi faranno un interrogatorio che può durare per ben 23 giorni durante questi 23 giorni non avrete nemmeno un avvocato in Italia mi sembra mi avete scritto nei commenti durante la live che avevo fatto sul canale a cazzo se non ve la siete vista andate qui mi avete scritto che era 48 ore in Italia in America mi sembra che siano 3 giorni e se non avete i soldi per permettervi un avvocato me ne daranno uno pubblico d'ufficio comunque voi immaginatevi 23 giorni senza un avvocato a subire un interrogatorio lunghissimo cioè è veramente veramente pazzesco tra l'altro c'è anche un altro dato che volevo analizzare sul fatto del sistema di polizia in giappone il fatto che il tasso di condanna è del 99% quindi il 99% delle persone che vengono accusate di aver fatto un determinato crimine lo hanno realmente commesso e tra l'altro la maggior parte delle persone che sono state considerate colpevoli sono colpevoli per testimonianza propria ovvero queste persone hanno confessato di aver commesso un determinato crimine quindi capite che davvero questa percentuale del 99% è davvero alta e quindi qua ci sono due opzioni o i giapponesi hanno davvero un'alta coscienza e quindi se vengono accusati di un determinato crimine e compensano subito di aver fatto questa cosa oppure la polizia in giappone è veramente brava e non sbaglia mai perché su 100 persone che accusa e porta il commissariato 99 sono realmente colpevoli però questa cosa della confessione spontanea da parte di queste persone che sono accusate mi puzza un po' quando penso che fino all'anno scorso quindi fino al 2018 non c'era nessuna legge per lo sconto della pena quindi se voi confessavate di aver fatto un determinato crimine nelle prime fasi delle indagini comunque non vi veniva ridotta la pena quindi non c'era nessun motivo apparente per queste persone che erano state accusate di confessare di aver fatto un crimine però quando ho pensato questa cosa ho detto non c'era davvero nessun motivo o magari c'era un motivo diverso che magari non è quello che noi pensiamo noi italiani e allora mi sono un po' immedesimato nella vita di un salaryman immaginati anche te immaginati di essere un impiegato normalissimo giapponese con il tuo lavoro una famiglia quindi hai una moglie e un figlio da mantenere tutte le mattine tu vai regolarmente al lavoro con il treno durante la rush hour quindi quando è stra pieno di gente però un giorno una ragazza grida che vuol dire pervertito sul treno e dice che l'hai toccata ti portano in commissariato e sarà la tua parola contro la sua e probabilmente daranno ragione a lei e da lì inizieranno gli indagini quindi un interrogatorio in cui potrebbero trattenerti per 23 giorni a chiederti se tu hai commesso realmente questo reato e di confessare quindi voi potreste andare incontro a 23 giorni di interrogatorio in cui uno non potreste lavorare due non portereste a casa uno stipendio e tre rischiereste di mettere veramente in discussione anche la vostra posizione perché se voi non lavorate per 23 giorni può anche essere che vi licenzino e durante quel mese cosa fa vostra moglie? si trova un lavoro per poter mantenere tua figlia o vi lascia se ne trova un altro cioè capite? ci sono un sacco di problematiche in un istante la vostra vita potrebbe essere completamente distrutta per via di un'accusa che potrebbe anche essere falsa capito? è veramente una situazione sconveniente cioè immaginatevi la scena quindi è molto probabile che magari la persona che anche se non ha commesso quel crimine confesserà di averlo commesso pur di poter uscire prima di quei 23 giorni e non perdere tutto ovviamente aver toccato una donna e aver confessato di averlo fatto avrà le sue conseguenze però se voi resterete 23 giorni in interrogatorio potreste avere altre conseguenze che potrebbero anche essere peggiori tra l'altro tutta questa situazione che vi ho descritto non è una cosa così poco comune in Giappone può succedere ho letto delle notizie di ragazze che hanno fatto delle false accuse magari c'era anche un uomo che vabbè non so se era un'accusa vera o finta comunque questo uomo pur di evitare di essere portato dai poliziotti a essere interrogato ha preferito scappare da questa tipa a lanciarsi sui binari del treno durante la rush hour purtroppo è stato investito da un treno che passava perché comunque durante la rush hour ci sono treni ognuno due minuti e è morto sul colpo però tutta questa situazione che io vi ho descritto in realtà c'è anche nel film Soreva Boku a Yatenai che sarebbe letteralmente comunque io non l'ho fatto e questo è un film molto bello che se vi potesse interessare ve lo lascio in descrizione il titolo magari cercatevelo e vi consiglio davvero di vederlo perché è veramente un film interessante ragazzi questo era l'argomento di oggi oggi era un argomento un po' serio spero di essere riuscito a dirvi tutto quello che io pensavo di questo argomento e della polizia che veramente non va presa sotto gamba se volete un mio consiglio fate in modo che la polizia non abbia mai da dubitare di voi e che non debba mai per nessun motivo aprire delle indagini perché veramente rischiereste di andare incontro a questo interrogatorio allucinante spero che questo video vi sia stato utile lasciate un bel mi piace e se vi potesse interessare in uno dei miei prossimi video analizzerò una questione abbastanza piccante che spesso vedo riportata sia da miei amici stranieri sia nei vari vlog eccetera che è il fatto che la polizia fermi o meno di più gli stranieri rispetto ai giapponesi di questo ne parleremo magari in un altro video se vi interessasse mi raccomando scrivetemelo nei commenti vi mando un abbraccione e noi ci vediamo al prossimo video noi abbiamo preso un don con questa lingua qua che è quella meno grassosa e poi una di queste questa è la più grassosa che è quella che costa di più ma a me piace di più meno grassosa mi piace più carne meno grassi appena arriva ve lo faccio vedere ciao ciao c'ho questa canzone in testa che non mi ricordo di cos'è quella canzone che fa trovata è di stevie wonder part time lover part time lover che è quella canzone che fa con occhio e con bocca e se ascoltiamo la canzone originale io spacco due di te ciao scusate non metto la canzone di stevie wonder perché non voglio che mi bloccano il canale quindi ve la canto e quindi abbiamo dedotto che non era questa canzone accidente vabbè non era quella che avevo trovato comunque qua c'è scritto che se non spiegate meglio non mi date più informazioni nessuno capirà mai che cos'è qua ho capito vabbè diciamo che non la risolto comunque ve la ricanto magari sapete che canzone è quella questo qua fa proprio un video perfetto per il mio canale Sebastiano Serafini Akatsu che vorrebbe dire vincere un piatto giapponese sapete quanto è buona la carne di lino a me di buca grazie mille per essere stati con me anche oggi non sapete quanto mi rende felice che guardate questi video ciao vi ricordiamo che potete trovare la musica di Shoebastiano Serafini nei maggiori digital store grazie a tutti grazie a tutti